Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Questo pomeriggio abbiamo un ospite io direi eccezionale perché conosco le sue canzoni conosco la sua voce e eh conosco eh lei Giorgia Fumanti. Ciao Giorgia tu ci sei? Ciao cara grazie Allora io faccio sempre un po' di domande così in generale no? Tu sei nata qui in Italia ma poi da quando eri piccolina sei andata subito in Canada e quindi hai abbandonato un pochettino l'Italia o sbaglio? L'ho fatto all'inizio l'ho fatto all'inizio della mia carriera quindi ho vissuto venticinque anni in Italia ho solo iniziato la mia carriera lavorando con una produzione canadese quindi era necessario il salto eh dall'Italia e da lì poi i più i concerti le promozioni sono subito nate in Asia e quindi tutto ciò mi ha portato un po' lontano dall'Italia. Ti è mancata l'Italia in quel periodo? Eh sì no? È bellissimo uscire, è bellissimo inseguire i propri sogni, cercare di realizzarli ma allo stesso tempo c'è tutto quello che viene nel senso quando cambi un paese quindi nuove lingue da apprendere, nuove amicizie, tutto è nuovo, ti devi costruire tutto e a volte non è sempre facilissimo però sono sacrifici che dopo anni poi pagano sicuramente. Senti ma secondo cioè indubbiamente una domanda stupida la mia ma te la faccio comunque eh perché molti talenti secondo te scappano all'estero e all'estero sono diventano dei grandi talenti e in Italia invece fanno un po' fatica ma dipende dalle case discografiche dipende da internet da che cosa? Eh non non voglio fare polemica perché sarebbe facile fare della polemica io credo che all'estero apprezzano ancora di più ciò che è italiano all'estero l'Italia è ancora vista come il paese dell'arte, il paese della buona cucina, dei bei vestiti e l'Asia specialmente come canto, il canto italiano riconosciuto come un canto classico e le grandi voci per loro sono le voci classiche italiane quindi Pavarotti, Bocelli e il mio stile musicale è sicuramente questo classico pop che viene chiamato crossover, un po' come i giovani del volo, è uno stile che all'estero viene veramente apprezzato e quindi forse per questo che ci sono molte più possibilità di esibirsi all'estero però io ho ancora speranza di, so che in Italia ho un bel pubblico che ti ama, che deve sicuramente ancora crescere però esiste già un pubblico che segue questa musica che è un po' come il jazz, una musica che appunto ha il suo pubblico, quindi continuiamo e raccogliamo ovunque, io ho sempre detto vado là dove la mia voce mi porta quindi spero che sia arrivato il punto anche di tornare un pochino più a casa Noi di Radio Free Station abbiamo sempre detto che tu appunto hai menzionato il jazz le canzoni praticamente che tu canti sono per un gruppo di ascoltatori che hanno il cosiddetto orecchio fino però io ho notato che ultimamente non soltanto le persone adulte seguono questo genere musicale ma ci sono moltissimi giovani che stanno riscoprendo questo genere musicale e questo secondo me è molto positivo perché quando abbiamo i giovani che si interessano a questo vuol dire che il pubblico diventa più amplio e quindi impara Sì, guarda, è una musica esatta, è una musica universale specialmente in Asia, ritorno a parlare dell'Asia perché è uno dei mercati che frequento di più, la Cina o Taiwan o il Giappone, le famiglie di bambini giovani vogliono proprio che i bambini apprendano dalla musica classica perché per loro è come una base importantissima per la loro cultura e nel mio pubblico ho l'onore e la fortuna di avere delle bambine, le piccole fino alle mamme, le nonne, quindi è una musica che va al di là degli stili e delle mode però può essere una musica universale quindi secondo me è una musica per chi è sensibile nel cuore quindi spesso attiro un pubblico che ha questa sensibilità e quindi è una bella, una bella musica che ti permette di avere una relazione profonda con il tuo pubblico Senti, quando hai scoperto tu di avere questa meravigliosa voce? E cos'è che ti faceva? L'ho scoperto tardi e per caso, ero un adolescente che si faceva un sacco di domande, non mi sentivo per niente sicura di me stessa e l'uno dei pochi posti in cui trovavo un po' di pace era la chiesa quindi mi avvicinavo alla chiesa, rimanevo lì e potevo ascoltarmi, ascoltare dentro e mi sono avvicinata a questo coro di chiesa perché avevano bisogno di giovani cantanti ma io non ero una cantante, ho scoperto di avere questa voce naturale di soprano proprio iniziando con questa corale e mi è stata proprio una cosa per caso e subito dopo era per me facilissimo cantare in questo stile pop classico, non volevo fare l'opera ma sicuramente ho una voce con un'estensione di soprano quindi nel giro degli anni ho capito di più e cercato di seguire questo sogno che ti posso assicurare non era veramente facile da realizzare perché comunque vengo da un piccolo paese in Italia, i miei genitori hanno sempre lavorato molto duramente per per riuscire perché questa era la realtà quindi sognare di fare l'artista non era veramente normale e ho provato, ho lavorato ho fatto diversi lavori, ho studiato giurisprudenza fino a che finalmente la musica ha preso spazio e ho potuto cominciare a realizzare questo sogno ma anche con delle difficili scelte tra cui abbandonare l'Italia e con tutto ciò che conoscevo. Senti ma a parte la musica quindi capisco che comunque in base ai tuoi studi il tuo sogno sarebbe stato anche quello di diventare un avvocato, un procuratore legale, non lo so un notario da piccola volevo essere una suora a 4 anni una missionaria a 5, volevo lavorare nel sociale quando avevo 7-8 anni e quindi poi gli studi di legge erano comunque per poter salvare il mondo, tutti i bambini sofferenti, avevo queste visioni grandiosi di poter fare qualcosa che facesse stare bene le persone e quando ho scoperto questa voce mi dicevo no, non c'entra niente, non è quello che voglio fare, però quando cominciavo a ricevere dei commenti di persone che mi dicessero mamma mia mi ha emozionato, mi ha fatto versare delle lacrime, sono resa conto che la musica ha un potere meraviglioso, che è quello di poterci fare star bene, di poter lasciarci piangere se abbiamo bisogno, quindi la musica può toccare profondamente il cuore e quindi la vivo ora dopo 20 anni, la vivo ora in questa maniera, in questa missione musicale di fare del bene a me prima di tutto perché adoro cantare, divento felice come una bambina e spero ogni volta che possa essere contagioso per il mio pubblico. Senti, tu hai avuto la possibilità di lavorare o perlomeno comunque di conoscere dei grandi come José Carreras e Michael Bolton, ma io ti chiedo dovessi decidere tu di fare un duetto con qualcuno, con chi ti piacerebbe? Ho avuto il piacere di duettare con grandissimi artisti da Lucio Dalla a Gino Paoli per l'Italia, Albano, sono stato sullo stesso polco genico con Zucchero, all'estero diversi grandi artisti come José Carreras e Michael Bolton, mi piacerebbe, ce ne sono tanti sicuramente, però mi piacerebbe, sì mi piacerebbe con una donna, probabilmente con Tina Turner perché siamo due poli opposti come stile musicale, è una donna, una grande donna con un cammino di vita molto intenso, con una positività e un messaggio d'amore attraverso la sua musica, quindi l'amo come donna e come artista, quindi ti Natale credo che sia, sarebbe una cosa veramente speciale. Io intanto vorrei far ascoltare una canzone che tu hai cantato e che devo dire ai nostri ascoltatori di stare attenti perché fa veramente venire i brividi, nonostante sia una canzone che noi abbiamo ascoltato spesso e volentieri dal volo, però cantata da te, onestamente parlando, ma te lo dico sinceramente non perché tu mi sia davanti, fa venire i brividi per la tua interpretazione, perché però in francese l'hai cantata? Io sto nel Canada francese, viaggiamo molto, però ora sono anche mamma, due bambine, quindi nella mia vita personale, quando non sono in concerto, mi divido tra l'Italia, il Canada, il Canada francese, quindi ho un bellissimo pubblico che mi segue e i miei album, io sto incidendo il decimo album, sono un misto di italiano, francese, inglese, latino, cinese, la lingua italiana rimane senza dubbio la più bella al mondo, questo, l'italiana e il latino, io credo che sono le più belle per poter cantare, però per il mio pubblico francese che adora tra l'altro l'italiano, quando canto in italiano, però è stato un regalo, tra l'altro il ruolo ha fatto questo bellissimo brano così bello in italiano e a me è stato domandato di farlo in francese, quindi mi sono prestata, anche se ripeto, cantare in italiano è il più gran piacere, in francese c'è un'altra energia, è sempre un grande amore, un grande amore, vogliamo far venire i brividi ai nostri ascoltatori allora, io la mando immediatamente, eccoci a voi, cantata da Giorgia Fumanti, grande amore. Giorgia Fumanti 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 punto ma vivo tutto questo come un dono credo molto nella spiritualità e quindi vivo tutto questo sotto questa ottica e quindi bellissimo e la cosa che mi tocca di più è che tante persone possano sentire ciò che sento io nel mio cuore questo è quello che è più importante non è solo una prestazione vocale ma un desiderio di condividere la magia della musica ed è una cosa stupenda veramente intanto voglio approfittare per ringraziare l'altro Luigi perché io appunto il mio Luigi che è quello che vive con me dalla mattina alla sera attraverso la nostra radio e poi abbiamo Luigi Mosello che mi ha dato l'opportunità veramente di portare la tua voce in diretta io dico perché un conto è far passare la musica così in radio e un conto invece avere l'interprete qui con noi è tutt'altra cosa è un piacere perché siamo tutti parte di un'equip io senza di voi e voi senza le cantanti senza la musica siamo tutti un'equip per poter mandare le più belle vibrazioni di musica che le persone ne hanno così tanto bisogno io guardo le notizie a volte, le televisioni, si parla talmente tanto di tragedie, di uccisioni, di malattie quando invece bisognerebbe concentrarsi sulle cose che fanno bene e la musica ne fa parte per me è una terapia, quando sto bene e quando sto male la musica ha il potere di elevarmi quindi grazie anche a voi tu praticamente hai viaggiato tantissimo e hai presentato le tue canzoni nei teatri più importanti del mondo c'è un teatro in particolare dove c'è stato un qualcosa, un aneddoto, un qualcosa che magari ti ha colpito maggiormente rispetto ad un altro? ma sicuramente cantare ai giochi olimpici in Cina nel 2008 o all'esposizione di Shanghai nel 2010 per l'Expo Universale sono state dei palcoscenici talmente grandi che non mi rendevo nemmeno conto perché forse era meglio così altrimenti l'emozione di poter esibirsi davanti a due o trecento milioni di tre spettatori è troppa partendo da un piccolo paese dell'Italia quindi sono cose talmente grandi che ti puoi perdere ma allo stesso tempo l'importante è veramente quando si fa la musica non importa dove si faccia io credo che ogni volta è un dono e mi ricordo di questi palcoscenici enormi ma mi ricordo anche di piccole occasioni dove ho cantato per un gruppo ristretto e la magia accade comunque quindi in Sudafrica per esempio mi ricordo di aver cantato in un ospedale per i bambini malati e all'inizio chiedermi ma che cosa ci faccio qui voglio dire questi bambini e le mamme soffrono e alla fine ricevere degli abbracci degli sconosciuti sono dei regali che fanno bene al cuore e ti porti con te tanto quanto cantare al cremlino o cantare delle arene con diecimila persone ogni volta è un regalo senti stai già programmando a parte questo viaggio in Cina un tour qui in Italia ecco brava grazie a voi grazie alla promozione grazie a Luigi seguirà sicuramente un tour italiano perché poi il momento più bello è quello dove finalmente dal vivo posso condividere con il mio pubblico la magia della musica quindi sicuramente sul mio sito internet georgiafumanti.com ci sono tutte le date sicuramente c'è un fan club gratuito dove ci si può iscrivere e da quello tutte le date verranno poi mandate adesso abbiamo della promozione da fare qui in Italia poi si torna in Canada ho dei concerti in Canada e poi ad aprile partiamo per un mese per dieci concerti in Cina e l'estate probabilmente saremo ancora in Italia probabilmente con dei concerti dal vivo quindi bellissimi quindi l'Italia c'è praticamente vediamo un attimino c'è Stefano Stefano che scrive che hai la voce di un angelo una voce stupenda è quello che noi appunto abbiamo detto all'inizio io quando ho sentito diverso tempo fa tra l'altro la canzone che mi aveva mandato Luigi Musello l'ho fatta sentire qui ai miei amici e ho detto madonna mia questa veramente non ho detto il tuo nome ma ho detto questa mi fa morire mi fa venire la pelle d'occhio veramente ed è una generazione stupenda io devo dire che quando appunto la musica arriva a questi livelli vuol dire che con le tue freccette no sei riuscita praticamente a prendere cuore per cuore ed è la cosa più bella esatto bravo ma io guarda sono partito da Urla in questo piccolo villaggio 15 anni fa sognando e questo sogno era veramente un sogno anche troppo grande da poter pensare si potesse realizzare ma sognando di poter toccare milioni di cuori io ho sempre detto il mio pubblico è troppo importante non ho mai cercato di prenderlo in giro di essere diverso da ciò che sono perché non si può prendere in giro il pubblico lo puoi prendere in giro per un po' ma non per lungo tempo e quindi ho sempre saputo che il pubblico è un amico e io sono stata una del pubblico dai zero ai 27 anni a 27 anni sono salita su un palcoscenico e sono diventata una del pubblico che ora è sul palcoscenico e quindi il pubblico ha una grande importanza per me e vi ringrazio tutti quelli che sono capaci di sentire ciò che sento io quando campo e io vorrei far ascoltare un'altra tua canzone proprio quella intitolata Un amore così grande l'andiamo a sentire insieme ok? l'andiamo a sentire insieme ok? un amore così grande Fai ton essence, ma défaillance, serre-toi fort contre moi, ne cherche pas pourquoi, il fait nuit à minuit et soleil à midi, Tout au fond de tes yeux rouleur la vie, un amour encore plus grand, qu'un amour infini, Un passé toujours présent, sans avenir, mon destin entre tes mains, mon corps qui bat si fort contre le tien, Un amour incroyable grand, que toutes les grandes amours, Un amour incroyable grand, que l'océan, plus brustu que le diamant, Un amour incroyable grand, que l'océan, plus brustu que le diamant, Fai ton essence, serre-toi fort contre moi, ne cherche pas pourquoi, il fait nuit à minuit, Il fait nuit à minuit, tout au fond de tes yeux rouleur la vie, un amour incroyable grand, Un amour incroyable grand, que l'océan, plus brustu que le diamant, Un amour incroyable grand, que l'océan, plus brustu que le diamant, Un amour incroyable grand, que l'océan, plus brustu que le diamant, Un amour incroyable grand, que l'océan, plus brustu que le diamant, Un amour incroyable grand, que l'océan, plus brustu que le diamant, Un amour incroyable grand, que l'acqua Assistant » oppure l'ha deciso tu? Vuoi rispondere a questa domanda? Sì, il grande compositore di Un Amore Così Grande, il maestro Guido Maria Ferilli e Luigi, il grande Luigi che sta organizzando tutto questo, infatti grazie a Luigi che c'è stato questo contatto con Ferilli e quest'idea di tradurre questo brano bellissimo, Un Amore Così Grande, francese, è nato da questo, il fatto che io vivo una parte della mia vita a Montréal dove si parla anche il francese e questo brano non è stato mai fatto in francese, quindi è da lì nata l'idea, però l'ho anche inciso in italiano e c'è anche una versione italiana con francese e italiana insieme, quindi per questo è nato questo brano che pendo ora è anche in francese per la prima volta. C'è Massimo che chiede. Grazie anche a Luigi che ha fatto i testi, è un testo bellissimo tra l'altro. Infatti. È stato fatto in francese. C'è Massimo che scrive, puoi chiedere come tiene allenata questa forza della natura che è la sua voce? Cercando di ascoltare Giorgia all'interiore, cercando di rispettare il mio cuore, la cosa più importante perché ho studiato il campo, ho scoperto la mia voce a 17 anni, naturalmente avevo questo dono, però ho studiato poi dopo, ho anche rischiato di perdere la mia voce, perdere gli studi sbagliati, ho studiato il conservatorio, ma non volevo fare solamente l'opera, quindi ho preso qua e di là tutto ciò che poteva aiutarmi a trovare la mia maniera di esprimermi e dopo anni finalmente ho trovato e ho usato usare questa voce classica in maniera anche un po' più libera e tuttora conosco bene la tecnica, il vocalizzo, però so che la mia forza che mi permette di contattare il mio cuore, il cuore di certi ascoltatori è sicuramente rimanere centrata e concentrata sui veri valori, il vero amore senza perdersi nell'industria della musica che a volte può essere un po' senza senso, un po' pazza, un po' piena di competizioni che non ho voglia di giocare, quindi attirando dell'equip di persone di cui ti puoi fidare, sono mamma di due bambine, quindi curando molto la persona e non solo la voce della cantante, ma la persona che ha questa voce, quindi l'ascolto e il rispetto di me è molto importante per poter poi essere libera di esprimermi attraverso il mio canto. C'è Mauro che scrive invece, hai una voce talmente bella e lui tra l'altro è un appassionato sia di musica lirica, è un grande della musica jazz, mi piacerebbe, comunque ti vedrebbe cantare un pergolesi gregoriano? Sì, bellissimo, io tra l'altro all'inizio della mia carriera, neanche per l'inizio della mia voce ho cantato per anni in un coro di La Spezia, un coro molto, molto, molto bravo, un coro a cappella di 4-6 voce e facevamo musica proprio dal medioevo fino a questa epoca dove la vocalità era comunque importantissima, quindi ho formato il mio orecchio in questo coro che ancora ricordo con tanto rispetto e amore perché proprio mi sono formata, non c'è cosa più importante secondo me che cantare nei cori per sviluppare il tuo orecchio e il rispetto delle voci degli altri, quindi ringrazio questo commento, tanto più se sei un appassionato, grazie mille per i complimenti. Lui l'ama talmente tanto che almeno una volta alla settimana deve far ascoltare dei brani di opera lirica, quindi sicuramente mi ruberà adesso le tue canzoni, io gliele darò ben volentieri per farle ascoltare ogni settimana. Ecco guarda, su iTunes ci sono nove album disponibili, quindi ho inciso tante cose se ha voglia di scoprirle un po' di più anche su YouTube, quindi insomma può trovare altro materiale. Sicuramente lo farà. Io adesso invece farei ascoltare un'altra tua canzone, Con i miei occhi, questa è una canzone edita da lei, Radio Edit, music? Sì, un brano inedito, un brano molto bello che Luigi ha scritto per me ad agosto quando insomma ha ascoltato la mia voce, è stato ispirato a scrivere un brano che è bellissimo, ancora una volta un testo molto spirituale e allo stesso tempo contemporaneo perché parla di... si chiede tanti perché, perché della sofferenza, perché di tanta confusione nel mondo, ma poi un desiderio che c'è qualcosa di più grande di tutto questo caos, con una melodia tra l'altro stupenda, delicatissima, quindi sono molto fiera di questo brano che Luigi ha scritto. E allora noi la andiamo ad ascoltare insieme a te. E allora noi la andiamo ad ascoltare insieme a te. Per lui che non ha il tempo Nemmeno di respirare Nemmeno di camminare Ora, io prego ero Io conto ero Vorrei che fosse un sogno Il sogno che fa male Ma è giorno e tutto è vero È questa la realtà Non vencerà Chi crede che Così sarà Unimi a te Non regolare Oltre la lucha Oltre le stelle Per ritrovarti Per ritrovarti E davanti Come sempre Per il Dio Per questa vita Per il Dio E avanti Per il Dio Il Dio Per il Dio Il Dio Per il Dio Il Dio Il mondo deve speciarsi, il mondo deve speciarsi, il mondo deve speciarsi, non servirà a mascheri et a morire. Il mondo deve speciarsi, il mondo deve speciarsi, il mondo deve speciarsi, non servirà a mascheri et a morire. Il mondo deve speciarsi, 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 il mondo deve speciarsi. Grazie a tutti. E noi torniamo qui in diretta, devo dire che siamo stati tutti in silenzio proprio ad ascoltare questo meraviglioso brano, addirittura c'è Walter che la sta ascoltando ad occhi chiusi ed è veramente un angelo e poi invece voglio farti i complimenti da parte di Ivana che è andata a cercarsi le tue pagine sul web perché evidentemente non ti conosceva, è entrata così e ha detto ma chi è questa che canta? E io ho scritto giustamente il nome e adesso ho messo la tua pagina nella nostra community e oltre a scrivere che hai una voce fantastica, scrive detto da una donna poi bisogna accettarli maggiormente i complimenti, sei anche bellissima. E sì è vero. C'è una grande magia, io divento felice come una bambina quando canto e chiudo gli occhi come faceva Walter, io chiudo sempre gli occhi quando canto quindi ha ragione, quando chiudi gli occhi apprezzi ancora di più la musica. E' vero è vero, io farei ascoltare quest'ultimo brano, alleluia, sempre cantata dalla nostra Giorgia Fumanti e anche qui chiudiamo gli occhi e prendiamo tutto ciò che ci dà la sua voce. now i've heard there was a secret call that David played and praised the lord But you don't really care for music, do you? It comes like this, the four, the fifth Minor fall, the major relief The baffled king composing, hallelujah Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Your feet were strong, but you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to a kitchen chow She woke you tall and she cut your hair And from your legs she drew the hallelujah Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia 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 It comes like this, the four, the fifth The minor fall, the major relief The baffled king composing, alleluia The baffled king composing, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia Alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Alleluia E noi ritorniamo qui in diretta Che dirti Giorgia, io devo ringraziarti per il bel pomeriggio trascorsi insieme alla tua meravigliosa musica musica veramente che ci ha deliziato in quest'ora quindi grazie a te, grazie a Luigi Mosello che ci ha dato questa opportunità e speriamo di risentirci a breve, che dici Giorgia? me lo auguro, me lo auguro di cuore grazie a tutti voi, grazie a Luigi Mosello e a tutti coloro che ascoltano e ascolteranno la mia musica grazie a te per questo tempo insieme vi auguro tantissima felicità grazie mille grazie a Luigi, Luigi mio come lo chiamo sempre grazie a voi, grazie Giorgia grazie di nuovo